Valorizzerà l'intera zona e tutta la città, non capisco proprio cosa ci sia da polemizzare. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, a margine dell'appuntamento promosso questa mattina dall'Asia, risponde alle critiche che si sono scatenate all'annuncio della nuova struttura sportiva, il campo da golf che dovrebbe sorgere nei prossimi anni in zona Capodimonte. Ho detto il campo da golf, lo fanno i privati, cacciano i soldi privati. Io certo ho dato una mano e faccio supervisor, hanno presentato il progetto da noi, hanno presentato il progetto per cui noi andiamo avanti tranquillamente con un'intesa e con una conferenza di servizi, dopodiché portiamo in consiglio comunale l'approvazione definitiva, come se i soldi avessessero messo, no assolutamente no, l'ho messo il comune, voglio tranquillizzare, l'ho messo il comune. E poi ancora il sindaco ricorda che il progetto prevede ben 130 assunzioni. Si innalza la capacità di turismo per Benevento Maggiore, ci sarà là un eliporto che si collegherà con Capri, con Issia, e ci stanno non soltanto i ricordi, ma anche i ragazzi, c'è un'accademia che sarà fatti, poi con la Clubhouse, potranno anche stare qua quelli che vengono a giocare. Nel sud, centro-sud, sarà questo il campo più importante, qui a livello internazionale, si faranno gare internazionali. Però c'è sempre chi rosica, mi dispiace, ho vinto le elezioni, dovete mettervi d'accordo con la vostra coscienza, mi dispiace, spero che vince anche quest'altra. Grazie. Grazie.